Quando racconto Ustars non mi dimentico mai di fare il nome di Ibn Battuta, scrittore e poeta del Trecento che raggiunse l'Estremo Oriente a piedi partendo dal Marocco. Praticamente il Marco Polo del mondo arabo e al suo coraggio e alla sua testimonianza che è dedicata a Ustars. Ogni profumo porta il nome originale di una città che ha visitato ed è scritto nel suo libro. Profumi creati con un ingrediente speciale, quasi magico, lud, in grado di purificare l'anima di chi lo indossa. Uno stile orientale interpretato dalla creatività italiana.